Buonasera, buongiorno, buonasera, è tanto uguale, piove, fa brutto tempo, c'è la nebbia, non so, la nebbia non so, siamo in Firenze, comunque quest'estate io la stavo aspettando, ma mi sa che prima che arrivi l'estate, va bene, io sono in casa, chiuso in casa a preparare gli esami, qualcuno deve preparare questi esami, e quindi in realtà il sabato e il domenico sono dei giorni anche peggiori, cioè io onestamente la settimana prossima finiscono le ore in presenza e poi va tutto in assenza, quindi ci vediamo con questo, va bene, ripartiamo con la solita surfa dell'esame, ogni anno cambiano regole, ogni anno cambiano, cioè che il ministero si divertono, fanno questo luogo, l'anno scorso facevamo, però quest'anno no, non si fa come l'anno scorso, perché se no si annoia, cambiamo un po' le regole, soldi non me ne vanno le regole, gli piace cambiarle, per tenerci un po' all'allenamento, se no uno si distrae ma questa sarebbe una polemica che lasciamo per lui, quindi non sa come faremo l'esame l'anno prossimo, con su una gamba sola, in equilibrio, con un libro in testa e nel equilibrio, chi lo sa, perché i ministero si divertono in queste modi, ogni tanto loro sono creativi, la creatività è una bella cosa, la scuola deve basarsi sulla creatività e quindi noi reggiamo nelle pause tra l'interpretazione di un bizantino e varie cose, è tutto un bizantinismo in realtà, ma lasciamo perdere i bizantini, che siamo più bizantini di noi dei bizantini e ci concediamo, in realtà questo fumetto l'ho già letto da diversi giorni, non ne ho parlato prima, perché non è che le posso, cioè io leggo vari fumetti e sono ancora inarretrati, quindi finiamoci, che gli avenge, insomma, c'è varie cose, c'è anche qualche recuperino bellino, tipo un braccio di ferro, ma non ho tempo di parlare di tutti, e vabbè, zago perché era il compleanno, e vabbè, però questo fumetto, summerster, 350, sottolineato in Limburgo, è veramente un bel fumetto, mi è piaciuto, nel senso, poi ripeto, nel senso che è fatto bene, ecco, ovviamente è fatto bene, poi qui hanno citato, qui il vecchio Angus Derryland, Derryland ha citato alcuni autori che a me basta che citi quell'autore e io subito gli do dieci, diciamo, dieci in senso metaforico, ovviamente, allora la copertina è sempre di Piccioni, Vincenzo e Tanzilno, poi c'è scritto qui davanti, spiegate, è ambientata a Edimburgo, Edimburgo io sono stato due o tre volte, bo, nella mia vita, quindi non è che c'è una conoscenza specifica di Edimburgo, una a 18 anni, quindi sono passati 28, 38, 28, 38, 48, sono passati più di 30 anni, o no, qualche anno fa, prima della pandemia, ma non si andai fugacemente a Edimburgo, ma era a Glasgow, a Stelling, e vabbè, la Scozia ci sono stato varie volte, ma nel senso che però, sì, mi ricordavo questa cosa della peste, dei sotternani, degli appestati, che però non era un argomento che a me mi interessava, mi ricordo una mostra che c'era a Glasgow su Sandman, e mi, andando per le fumetterie inglesi, insomma, mi stupivo nel senso che non riuscivo, cioè per curiosità mia, non riuscivo a trovare un corto maltese neanche a pagare, ma non perché lo volessi comprare, sì, alcuni fumetti, cioè, loro, li vedevo, cioè, sono proprio alcune cose che per noi sono il pane quotidiano, insomma, erano piuttosto refrattari, e vabbè, mentre il corto maltese in Francia, il corto maltese ha un grande successo, e in Inghilterra, ma mi sembrava piuttosto, bah, che pure in realtà Ugo Pratt, degli autori italiani, sì, è anche di origine inglesi, quindi, o irlandesi, insomma, di quelle parti lì, quindi, vabbè, questo, e poi ha lavorato anche per la supereroica, la Fleetway, ma questo non c'è niente con questo, no, dicevo perché sono stato a Edimburgo, quindi questa storia della peste mi ha portato vari, vari ricordi che ora non ricordo, ovviamente questi sono i sotterrandi di Edimburgo, la copertina, appunto, è di Piccione, Vincenzo e Tanzillo, ovviamente richiama un po' Siouxet, i sotterrandi di Parigi, Grand Guignol, ovviamente questo, l'istituto tipico dei dottori, ovviamente sì, si cercavano di coprirsi dai virus, anche se non sapevano che esistevano, però sapevano che si toccavi troppo un'appestata, che si è andabile, e non si è andata, che invece è una cosa intuitiva, e empiricamente ci sono arrivati, magari gli mancavano le basi teoriche, ma empiricamente ci sono arrivati. Ho questa copertina a effetto, la storia di Funfiladoro, Fumasore e Savegnano, quindi ha tre mani, e disegni di Mlinaric, molto belli questi disegni, molto bravo, cioè il sotterrandi è un parco di disegnatori che hanno uno stile un po' diverso, per esempio a me questo piace, perché non spinge sull'acceleratore della sperimentazione, come ha fatto di Randogna nel penultimo album, ed è troppo, per un fumetto seriale, però comunque non è neanche il solito album Bonelli, nel senso c'ha uno stile tutto suo, San Mesterno, questo uso per esempio del questo uso del bianco e nero, queste pagine, cioè ha una sua caratteristica, anche questo stile che ricorda nebbia di Londra, che si chiamano Edimburgo, questa per esempio immagine è molto bella, in senso che questo personaggio che quasi si scioglie nella luce, o nella nebbia, o in quello che volete voi. C'è l'introduzione di Derry Langer, che ho fatto, ho visto, ho letto anche i racconti, e si cita autori che alcuni, penso almeno ricordi scolastici, buzzati, che è un autore in realtà che usiamo noi molto alle medie, ma poi andrebbe rivalutato di più, buzzati, e qui si cita dai sette messaggeri, comunque uno scozzese che alleggia, ma questa è una finzione, però. E poi si cita un autore che credo in Scozia sia quasi sconosciuto, ma è sconosciuto anche in Italia, è Tommaso Landolfi, che certamente potrebbe essere uno dei padri spirituali di Savo Esternico, perché Landolfi vi consiglio di aver fatto un video su Landolfi, credo, un po' di tempo fa, sì, mi pare, ma sono quasi sicuro di averlo fatto, è uscita da tanto tempo ormai, io ho trovato un libro di Landolfi, in prima edizione, a Firenze a volte si trovano queste cose, ho varie prime edizioni di Landolfi, perché veniva pubblicato dalla Vallecchica, un editore fiorentino, questa è un'altra storia, dicevo perché Landolfi, di cui vi consiglio un'edizione della Delphi con presentazione di Calvino, quindi non un po' proprio... è sempre come sano esterno, c'è sano in comune, che lasciano sempre... cioè mentre di Landolfi non è in fondo inquietante, anche il numero della barale di Stano non è inquietante, cioè si va su... mentre Landolfi e anche Savo Esterni nel fumetto lasciano sempre qualcosa di... diceva Calvino come delle unghie che graffiano uno specchio, qualcosa di sgradevole, ma è ovvio che un racconto ordi... potrei citare Il mare delle blatte, le blatte sono scarafaggi, racconti molto disturbanti, ecco, Landolfi è un autore molto disturbante, non è solo dell'orrore, non solo del terrore, ma sono racconti disturbanti, che senti quasi il ghigno di Landolfi quando scrive il racconto, una racconta era addirittura presa in giro, aveva scritto un racconto, la passeggiata, con termini desueti dell'italiano e nessuno aveva capito niente, per tutti pensavano avesse inventato una lingua, invece aveva preso semplicemente un dizionario, aveva ammassato parole dell'ottocento e del settecento, come atticciato, la fantesca dagli scappini, che erano parole che sono nel vocabolario ma che nessuno usa più... sto facendo tutto questo discorso e non entro ancora nel fumetto perché è mia tipica abitudine di... e quindi già l'accostamento Landolfi ci sta, non so se Landolfi ha scritto racconti di Edimburgo, no, non credo, non credo, non me li ricordo, comunque questo racconto mi è piaciuto, a parte i disegni, a parte il demone, la storia di un fallito, di una persona che è fallita, che aveva... a me mi ha ricordato molto i miei anni universitari a Siena, diciamo, sì siamo tutti un po' dei falliti in realtà nella vita, direbbe Landolfi quando arrivi a 50 anni ti rendi conto che sei un fallito, ma anche se tu fossi come... anche se come Napoleone avessi conquistato il mondo, saresti sempre un fallito perché le tue aspirazioni giovanili le hai in qualche modo tradite. il protagonista che è questo... questo qui non ha voluto tradire le sue aspirazioni giovanili e quindi alla fine rimane abbandonato dalla sua compagna che se ne va con uno più un po' più figo e più... personaggio antipaticissimo che già lo vedi e te sta subito... te sta subito proprio... le persone che ti stanno antipatiche a pelle, ecco, le persone che... che è questo qui... questo qui... che proprio lo vedi e ti sta antipatiche a pelle, quello che è sicuro di sé che ha fatto successo nella vita... già questo te lo rende antipaticissimo, ma è proprio il suo modo di rapportarsi al mondo che non ha mai un dubbio, una certezza, una incertezza e che vede tutto molto... e quindi... e questo invece ha proprio l'aspetto del fallito... anche Samuel Stern si è allontanato da lui dopo l'università... e la cosa più sconvolgente... è un po' quegli amici che... insomma, all'università conoscevi... poi li hai persi di vista... magari sognavano di fare... sognavano di fare rockstar o chissà che... l'artista e poi li ritrovi... e ci si ritrova in quel... cioè, forse è un fumetto per quelli della mia età, ecco... ci si ritrova... cosa hai fatto? mi ricorda anche un racconto di pazienza... dall'altro... finzione... con Tannino liberatore che era nella parte di questo rapinatore... che due si incontrano e fingono... che cosa fai nella vita? ma... e ovviamente ci si vergogna... quando ci si ritrova di dire... sì, volevamo fare questo... volevamo cambiare il mondo... e poi il mondo ci ha presi... risucchiati... mangiati... e risputati... come succede? qua dico... magari voi... siete molto veglio... come succede? tutto in senso... questo è naturale... normale... nel senso che tu vivi in un mondo... che non hai creato tu... in cui tu sei nato... quindi... nel senso che... quindi... l'alternativa Rambò... fuga... Rambò... aveva l'alternativa... la fuga in Africa... ma oggi... dove vai a fuggire? nel senso che le fughe... la Rambò... la Seandras... dove... la Gaughen... sono impossibili... per questo a me piace tantissimo... e quindi... questo è un povero fallito... e qui c'è una bambina... di 7-8 anni... che secondo me... è un personaggio... che il personaggio più importante... di questo racconto... è questa qui... che fa... lui... per tirare avanti... fa... come fanno qui... anche qui a Firenze... fa... delle guide turistiche... travestite... come fanno qui a Firenze... travestite... che so... da persone del Rinascimento... che a me... mi fanno anche una pena... vedere... persone 50 anni... che vanno in giro... con le calze... io per esempio... il calze maglia... farei piuttosto schifo... credo... credo di sì... e... quindi... porta i turisti... nei sotterranei... di Edimburgo... prima ovviamente... di impazzire... ma è un personaggio... molto tenero... mi è piaciuto tantissimo... questo personaggio... veramente... questa... questa bambina... antipaticissima... però secondo me... ho solo sette anni... il prossimo mese... e ho tre provini... per varie pubblicità... un film americano... ah no... scusate... Samuel Stern... sta parlando... del suo amico... questa bambina... gli dice... io mi chiamo Susan... e non credo che tu capisca... molto di teatro... dal momento che hai fatto... lo stesso complimento a Donald... per favore... ha più di trent'anni... il ruolo della sua vita... è recitare... con finti fantasmi... per i turisti... mentre lei ha sette anni... e sarà presa... per qualche film... eccetera eccetera... ma invece... non si muoverà mai da qui... dice di poter fare l'attore... ma si è innamorato... di questo buco sotterraneo... sei riuscito a leggere... quella roba che ti ha dato... Alan... ha cercato di farla leggere a tutti... vuole scrivere un libro... sul Mary King Claus... che è del posto... in Susi... cioè... questa scena... veramente allucinante... in cui questa bambina... di sette anni... distrugge questo poveraccio... che è il poverino... è proprio la mancanza... anche di pietà... di empatia... che emerge... che è tipica del mondo anglosanico... e che è veramente... a me ha terrorizzato... più questa bambina qui... che è il mostro... nel senso... infatti anche... Samuel Stern dice... cosa ti metteva nel latte? lei dice... lo preferisco come attore... ed è tutto dirlo... e lui dice... ma cosa ti metteva nel latte? L'atte è sarcasmo... e alla fine dice... ci vediamo... secondo me è un personaggio... che forse potrebbe ritornare... da l'idea di qualcosa... di profondamente inquietante... e disturbante... a me questa bambina... è forse il personaggio... più inquietante e disturbante... di tutto il fumetto... e ovviamente la discesa... agli inferi... questo sotterraneo... tutti noi sappiamo... che ha... bazzicato... un po' di psicologia... che la casa... ma anche Gurgelf lo dice... che la casa... è una rappresentazione... della psiche umana... la casa è divisa in varie stanze... quindi c'è la soffitta... ma anche nel disegno di nascimentale... la città... veniva rappresentata in formale... quindi c'è la parte razionale in alto... ma c'è il sottofondo... la cantina... che rappresenta l'inconscio... quando noi sogniamo la cantina... ora mi fate fare... il Sigmund Freud dei poveri... ma è ovvio che rappresenta... l'inconscio della casa... insomma... la cucina... gli intestini... cioè veramente la casa... è una rappresentazione perfetta... della psiche... dell'essere umano... e quindi questo attaccamento... questa discesa... agli inferi... questo personaggio... che poi è stato... in realtà abbandonato... anche da Samuester... la fidanzata... si è trovata... questo è un po' più... brutto... questo è brutto... più bello... però... il successo... il denaro... eccetera... e ovviamente... verrà licenziato... e ovviamente ci sarà un demone... e ovviamente... ovviamente... si cita appunto la... pare che questi appestati... vengano murati vivi... per non contagiare gli altri... perché siamo sempre... con questi... il finale... le maschere... ovviamente... il... il fidanzato... di questa fidanzata... ovviamente... si vendicherà... togliendogli la maschera... che è la nostra pelle... insomma... questo non ve lo spoiler... ma comunque... è un'allegoria molto bella... questo fondetto... veramente... mi è piaciuto tantissimo... ho... faccio paragoni... ma sì... li faccio... nel senso... tra queste... e il dirandogo di questo mese... direi che mi è piaciuto questo... però il dirandogo di questo mese... è... come si chiama... il giudizio... è una roba fatta bene... nel senso... però... rispetto... mentre sempre... quella del mese scorso... di Lauria Utseo... mi piace più questo... ma non perché... perché qui... cioè... veramente... sì... le immagini onidiche... vanno bene... nel senso... io prendo un foglio di carta... e mi metto a disegnare... immagini onidiche... e va bene... va bene così... però qui c'è... ovviamente... poi... come in tutte le tragedie... della psicanalisi... chi è dietro a tutto... è ovvio... l'ombra della madre... o del padre... quindi la madre... se mi ricorda anche... per l'ora... va bene... il fumetto... veramente... che ha... secondo me... ha indagato più questo... a me... meandri della psico-umana... del... del fumetto di... Dylan Dog... quello di... Il detenuto... che... sì... lì... è un po'... più surrealista... più... come le immagini... qui in realtà... si è scavato... perché... chi ha fatto questo racconto... ha letto Landolfi... e quando uno ha letto Landolfi... eh... non vede più il racconto horror... come diciamo così... nello stesso modo... come lo vedeva prima... cioè... tra Landolfi... tra il primo Landolfi... e dopo Landolfi... credo che ci sia... per me Landolfi è stata... non dico un'illuminazione... sarebbe... però una rivelazione... di un autore... che per me... è fondamentale... nella mia biblioteca... io... decine e decine di libri... Landolfi... ed è un autore che... purtroppo... nell'ordine di scuola... che faccio io... è un po' difficile... a parte alcune... io... uso spessissima... le medie... la passeggiata... per far capire... che le parole antiche... a volte... eh... che è l'unico racconto... che si può far leggere... cioè... che si può far leggere... che si può... con cui si può giocare... a scuola... appunti... è ovvio come il mare delle blatte... sono improponibili... a... nel mio ordine di scuola... ma non perché... perché... ovviamente sono... oppure... veramente... anche i romanzi... la pietra lunare... più da aver parlato... la pietra lunare... va bene... quindi... è un racconto molto... landolfiano... landolfiano... ecco... landolfiano... ti verrebbe voi... di pigliarli... e buttarli via... veramente... il mare delle blatte... ma... che è sta... questa roba... però... quando dietro il ghigno... di landolfi... riesce a capire... quello che ti vuole dire... che landolfi poi era un personaggio... perché sto parlando di landolfi... ma... secondo me... un po' c'è di landolfi... vabbè... non farò un discorso su landolfi... l'ho già fatto... a suo tempo... il lotempore... forse dall'altro... è un traduttore da russo... personaggio strano... ecco... io ce lo... consiglierei gli autori di... ora... landolfi non credo sia mai andato di brutto... però... una... una puntatina di landolfi... nella libreria... o di Samo Ester... ci potrebbe stare... e qui... tra l'altro... non c'è... il ruolo di... del prete... appare solo in fondo... e quindi... in realtà qui... è molto più presente Angus... va bene... siamo a 20 minuti e 15... è un fumetto che secondo me... per chi... è un fumetto che merita... ovviamente... poi... ovviamente io ripeto... non ho nessuna... anzi... ringrazio... ringrazio ovviamente... quando... chi mi commenta... anche mi sembra... mi aveva commentato anche Filadori... quando parlai di... però... io veramente... non ho nessuna... Sponsor... Filadoro... scusate... Filadoro... scusate... sono di un bambino... infatti la penso... e mi leggerò anche... un racconto di landolfi... ora... sì... 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 gli scrutini... inducono a questi... a questi... bui... zone buie... però... dicevo... quindi... io non provo... nessuna sponsorizzazione... nel senso... vedete... passo da... da Godzilla... a Zagote... tranquillamente... cioè... questo canale è veramente... anarchico... che poi... io tendenzialmente... la mia... la mia... formamentis... vedete da questi libri... come sono messi... se l'ordine... non è il mio regno... ecco... se l'ordine... io riesco... riesco a... cioè... se a me... mi mettete in una stanza ordinata... dopo 10 minuti... è così... ma io... questo disordine... mi ci muovo... alla grande... se... quando qualcuno... mi mette in ordine... io impazzisco... perché non riesco più a capire... cioè... io questo disordine... trovo tutto subito... fogli... fogli... trovo tutto subito... nell'ordine... non mi ci muovo... ecco... data questa informazione... che credo... freghi... poco... nulla a nessuno... vi saluto... e consigliandovi veramente... questo fumetto... non ho visto... ora... io non ho seguito tutte le recensioni... ultimamente... credo che qualcuno l'abbia fatta... però... veramente... questo rispetto... diciamo... sì... facciamo anche il paragone... ma sì... facciamo il paragone... rispetto... nonostante che dici... di questo mese... il processo... quello sul processo... mi sia piaciuto... però... secondo me... questo è un gradino... un pochino superiore... e lo so... sono... pubblicità a confronto... non si dovrebbe fare... però... al fondo... io vi dico... quello che penso io... attenzione... dico... ripeto... il fumetto di Landog... di questo mese... mi è piaciuto... ma questo mi è piaciuto... un pochino... ho detto questo... e fate però... voi fate un po' come vi pare... ehm... ah ecco... che cosa succede... il prossimo numero... allora... beh... questi sono i racconti termini... che già... ho già letto... non ho fatto il fumetto... nel mese scorso... qualcosa salto ogni tanto... perché non ho tempo... e fa tutto... il prossimo fumetto... sarà la casa degli spiriti... no... degli spiriti... dei sospiri sono... dal 30 giugno... questo è il prossimo... che ovviamente... noi... no... io non me ne perdo uno... ma poi magari qualche mese... salto qualche... qualche... recensione... ma in realtà... non me ne perdo uno... di Samuel Stern...